Benvenuti su Gossip Globe. Prima di continuare ricorda di mettere un like, seguire il canale ed attivare la campanella per restare sempre aggiornato. Chi ha vinto Amici 23? I nomi sorprendono, soprattutto per il primo e il terzo posto. Amici 23, chi vincerà questa edizione? A svelarlo non è un sondaggio o qualcuno legato al programma, ma l'intelligenza artificiale. In un mondo sempre più integrato con la tecnologia, non poteva mancare una previsione dell'IA sul più famoso talent show televisivo. Domani, sabato 18 maggio, i finalisti Dustin, Holden, Marisol, Mida, Petit e Sara si contenderanno la vittoria. In queste ultime ore la tensione è palpabile. In attesa della finale, i cantanti hanno pubblicato i loro inediti. Durante la finale, i sei allievi si esibiranno in una serie di sfide. I vincitori saranno determinati esclusivamente tramite il televoto del pubblico. Solo intorno all'1.30 si conoscerà il vincitore di questa edizione. Nel frattempo, qualcuno ha chiesto all'intelligenza artificiale chi trionferà ad Amici 23. Il verdetto è sorprendente. La scelta del vincitore da parte dell'IA si basa su diversi fattori, la popolarità sui social, i numeri dei brani sulle piattaforme di streaming e i giudizi dei bookmakers. Secondo l'IA, il vincitore non sarà Sara Toscano, considerata da molti la favorita. Per l'IA, a vincere Sara Holden, con il 35% di probabilità di arrivare primo. A seguire, Petit, il cantante romano con papà napoletano e mamma francese, con il 30% di possibilità di vittoria. Sara Toscano si piazza invece al terzo posto con il 15% di probabilità. Con minori possibilità ci sono Mida e Marisol, 10%, e Dustin, 5%. E voi, cosa ne pensate? Chi vincerà Amici 23? Se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un like e un commento qui sotto. Il tuo supporto significa molto. Grazie.